È come il riso? È un cereale? Come si cucina e soprattutto perché dobbiamo comprarla? Oggi vediamo 5 cose che devi sapere prima di cucinare la quinoa in questa nuova puntata dei segreti degli alimenti. Un saluto da Simone, vostro nutrizionista allenatore. La quinoa si coltiva da più di 7.000 anni, specialmente nella regione delle Ande dove ci sono elevatissime altitudini e questo alimento può crescere tranquillamente. Quindi è molto popolare ancora oggi in nazioni come Cile, Perù, Ecuador e soprattutto in Bolivia. La quinoa viene definita uno pseudo cereale perché non è propriamente un cereale ma è molto simile a questi al punto di vista nutrizionale. Quindi il grano, la pasta, riso, farro, orzo. Ma la quinoa è più ricca di proteine, tra il 9 e il 16%. Ha un filino di grassi in più, tra il 4 e l'8%. Il contenuto di carboidrati è leggermente inferiore ed è un pochino più elevato quello di fibra rispetto ad alcuni cereali, mentre altri invece hanno un quantitativo di fibra più elevato. È anche un alimento densissimo di alcuni micronutrienti come la vitamina E e i folati e minerali, soprattutto calcio, ferro, potassio, magnesio, fosforo e zinco. Esistono più di 4-5... no no... più di 3.000 varietà di quinoa. La più comune è quella bianca ma si trova facilmente in qualche supermercato, anche quella rossa o quella nera. Ma tagliamo corto e andiamo subito al sodo. Basta, lasciamo stare la storia della quinoa e i suoi valori nutrizionali. Cosa devi sapere prima di cucinarla? Numero 1. Sciacqua la tua quinoa. Ah, Simo, ho provato quella quinoa che mi hai detto, ma è amarissima, non mi piace. Per forza! La quinoa contiene alcune saponine che contribuiscono a renderla amara. Ma come facciamo a eliminarle? E' semplicissimo! Diamo una bella sciacquata prima di cuocere la nostra quinoa. Nella cucina andina si utilizza anche l'ammollo per ridurre appunto la quantità di saponine presente in questo alimento. Inoltre andrebbe cotta con poca acqua. Generalmente si utilizzano due parti di acqua, ma il consiglio rimane comunque quello di utilizzarne poca. Quindi puoi mettere benissimo la tua quinoa dopo averla sciacquata in pentola e mettere tanta acqua quanto basta per coprirla. Stop! Non di più. Generalmente si cuoce in 10-15 minuti a fuoco basso. Numero 2. Cerca di preferire la quinoa scura. Quella rossa e ancora meglio quella nera. Perché questo tipo di quinoa ha meno grassi saturi, più acidi grassi omega 3, quindi acidi grassi insaturi che ci fanno bene, grassi buoni. E più carotenoidi. Inoltre la quinoa rossa e anche quella nera hanno più del doppio della vitamina E. E sono più ricche di antiossidanti, per cui generalmente più è scura la quinoa, maggiore la quantità di antiossidanti. In più ci sono anche altri fitochimici molto importanti, tra i quali i polifenoli. La quinoa è ricca di quercetina, che si trova anche in quella bianca in modeste quantità. Ma invece quella più scura, specialmente quella nera, ha un elevato contenuto di beta-cianine, un composto fitochimico con proprietà appunto antiossidanti. Numero 3. Le proteine. La quinoa ha una quantità di proteine maggiore rispetto ai soliti cereali che consumiamo a pranzo, come la pasta e il riso. In più ha un profilo amminoacidico completo, contiene tutti gli aminoacidi essenziali, quelli che ci servono. Numero 4. Gli effetti positivi sulla salute. Ci sono pochi studi a riguardo, ma la quinoa potrebbe aiutarci ad abbassare la quantità di trigliceridi plasmatici. E non solo, uno studio del 2020 ci dice che potrebbe anche avere effetti benefici sulla riduzione appunto delle LDL, il famoso colesterolo cattivo, e addirittura aiutarci a perdere peso. Ma attenzione, prendiamola con le pinze questa, c'è solo uno studio che ne parla. Per ora non sappiamo altro. Inoltre può avere effetti positivi sulla glicemia. E infine una review del 2020 ci suggerisce che la quinoa, grazie a questi effetti appena citati ed altri, può essere utile per prevenire e controllare meglio le malattie cardiovascolari. Tutti gli altri studi sono promettenti, ma purtroppo non sono stati svolti su esseri umani. Numero 5. È una validissima alternativa alla solita pasta. Pasta, riso, pasta, riso. Non solo per i celiaci o per chi soffre di sensibilità al glutine non celiaca o sensibilità al grano non celiaca, come abbiamo visto nel video sul glutine. O per chi per qualsiasi motivo vuole ridurre o eliminare il glutine dalla propria dieta, la quinoa rappresenta una validissima e nutriente soluzione. Quindi, per concludere, il motivo principale per cui consiglio di provare a introdurre la quinoa una, meglio due volte a settimana nella nostra alimentazione o anche di più se ti piace, ben venga. È proprio per questo, per ridurre la monotonia della pasta e del riso. Abbiamo tantissimi altri cereali o pseudo cereali come il farro, l'orzo, l'amaranto, il miglio. E adesso conosci anche la quinoa. Attenzione, pasta e riso vanno benissimo, ma come tutti gli alimenti vanno consumati con moderazione. Tutti e tutti i giorni la pasta, sia a pranzo che a cena, forse no, troviamo un'alternativa. E la quinoa può essere la soluzione. Quindi il consiglio è, da domani, prova a sostituire uno o due volte a settimana la tua pasto e il tuo riso con un piatto di quinoa. Come cucinarla? Ci sono tantissime ricette dal piri de quinoa della Bolivia o alla pisara de quinoa, sempre boliviana. Ma puoi cucinarla e consumarla semplicemente come se fosse il tuo piatto di pasto, il tuo piatto di riso. E allora anche oggi, se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, cliccando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Fammi sapere con un commento poi se già conoscevi la quinoa, se già l'hai provata, se conosci qualche ricetta originale, fantastica da consigliare a tutti noi. O se invece per te la quinoa è una novità e magari vuoi iniziare a provarla proprio da oggi. Noi ci vediamo con altri alimenti fantastici e i loro segreti da scoprire nella prossima puntata dei segreti degli alimenti. Saluti!